Pescara, città del Natale, il Comune già pensa alla festività più attesa dell'anno in un incontro tra i rappresentanti delle associazioni di categoria e l'assessore a ramo Alfredo Cremonese. Sul tavolo le iniziative da intraprendere Covid permettendo per rendere la città luminosa anche e soprattutto a Natale. Vi hanno partecipato Gianni Tauci di Confesercenti, Fabrizio Vianale, Confartigianato, Riccardo Padovano Confcommercio, Dino Lucente e Casartigiani che in riunione hanno fatto proposti all'assessore il quale traccia un bilancio intanto di un'estate all'insegna della record di presenze. Sì, abbiamo le idee molto chiare, stiamo lavorando ad una serie di iniziative. Chiaramente le nostre idee le vogliamo confrontare con le associazioni di categoria e insieme trovare le giuste soluzioni. L'amministrazione è assolutamente aperta a qualsiasi idea ed è giusto proprio in questa fase fare uno studio approfondito perché nulla può essere lasciato al caso. Nonostante il Covid è questo estate boom di presenze a Pescara. Assolutamente sì, siamo davvero felicissimi, abbiamo avuto record di presenze a Pescara come dicevo prima ma gli eventi sono riuscitissimi. Voglio ricordare a tutti che il Comune di Pescara ha investito e ha regalato, ha donato a tutti i cittadini e anche a coloro i turisti che erano qui, eventi gratuiti. Abbiamo avuto il meglio del meglio, abbiamo avuto la rappresentante di lista da Sanremo, Clementino, Ide Colors, Emi Stewart, Alessandro Quarta, Enula, Francesco De Gregori. Tra pochi giorni si esibirà Edoardo Bennato, Morgan, Alice Cantabattiato. Insomma davvero abbiamo investito su eventi di altissima qualità. Ed eventi importanti prosegue l'assessore ci saranno anche per Natale. Quali le richieste delle associazioni? Noi all'assessore abbiamo sempre chiesto una città bella, accogliente e che abbia il profumo e i colori del Natale in questo caso, soprattutto in questo momento particolare. Noi chiediamo soprattutto pianificazione degli eventi e comunicazione, il Comune deve investire nella comunicazione. In più faremo una proposta ufficiale per un evento particolare che coinvolgerà tutti i bambini. Le nostre proposte sono che bisogna cercare di attrare più gente possibile a Pescara. Io ho lanciato l'idea. Facciamo i castelli di sabbia come a Lignano a Piazza Salotto e diventerebbe un punto attrattivo per tutto il comparto della provincia di Pescara. Non vogliamo e non vorremmo che si rifacciano manifestazioni dozzinali, cioè vogliamo assolutamente che vengano coinvolti gli artigiani, perché facendo una camminata per Pescara a piedi su tre attività due sono artigianali, poi soprattutto le imprese con partita IVA e non gli obbisti. Grazie. Grazie. Grazie.